Fare diritti come nome, come sottotitolo diciamo, a imperfette, empatiche, attive. Imperfette e al primo posto. Ecco, noi non abbiamo nessuna verità in tasca, anzi siamo piene di curiosità, siamo empatiche, ci sentiamo molto in sintonia con la comunità femminile, ma con la nostra comunità territoriale, con il Paese, attive. Crediamo nella cittadinanza attiva, quindi ci diamo da fare. In che modo? Cercando di rendere possibile la informazione, la partecipazione a questo grande progetto al maggior numero possibile di cittadine e cittadini del nostro territorio, per esempio. Ecco, questo è un seminario di informazione, di divulgazione. Quindi, l'abbiamo fatto in un luogo anche autorevole, la sala conferenza della Camera di Commercio, che ci ospita, e sarà proprio il commissario straordinario, ex Presidente della Camera di Commercio, Paolo Govoni, ad aprire questo seminario. I saluti non saranno formali, neanche delle istituzioni. Abbiamo dei saluti che parleranno di questa necessità di un rapporto fra cittadinanza e istituzioni, della senatrice Bolderini, della consigliera regionale Zappaterra, dell'assessore alle pari opportunità del Comune di Ferrara, le politiche della famiglia e dell'istruzione Dorota Cusiac. E, naturalmente, due di noi, la sottoscritta che coordinerà anche il seminario e che farà una piccola presentazione di fare diritti, e Paola Castagnotto, cercheremo di dire sinteticamente che cos'è il PNRR, che noi non è che vogliamo illustrare in toto, perché è veramente una materia enorme. Noi l'abbiamo preso da un punto di vista molto particolare, che è quello della parità di genere. Grazie.